Sì, sicuramente siamo felici di aver vinto mercoledì a Canmi, di aver raggiunto la semifinale del Challenge. Adesso dobbiamo pensare al campionato, una partita molto difficile in casa di Scandici, non c'è bisogno di dire che è una grande squadra e che sarà una partita dove dobbiamo fare molto molto bene per avere delle chance. Sì, diciamo siamo a 6 vittorie da fila tra Challenge nel campionato, con un buon spirito di lotta, non sempre abbiamo giocato benissimo ma abbiamo lottato, abbiamo ottenuto dei risultati, dobbiamo continuare a crescere con il gioco e tenere questo spirito, questo è molto importante, stiamo dimostrando che siamo una squadra che combatte, che sta crescendo e pensiamo che possiamo fare una buona prova anche lì a Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.